Muggio, Monza, Trenta Gen, i carabinieri del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale hanno restituito alla chiesa di San Giuseppe di Muggio, Monza un pregiato bozzetto di Trento Longaretti, ceduto nel 2006 dall'allora parroco ad un antiquario, che poi lo aveva rivenduto ad un ignaro commerciante d'arte di Lecco. Il bozzetto, raffigurante il mosaico absidale della chiesa di San Giuseppe, opera dello stesso artista morto centenario lo scorso anno, è stato rintracciato dai militari nel settembre 2017, a seguito di controlli eseguiti sul mercato antiquariale, a Vaprio d'Adda, Milano. Per il furto del dipinto però, non era stata presentata alcuna denuncia. Solo dopo gli accertamenti, i carabinieri sono risaliti al passaggio di mano dall'allora sacerdote al primo antiquario, nel frattempo entrambi deceduti.